Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Cari amici, come ricorderete, certamente, stiamo trattando delle apologie, cioè dei testi a difesa della dottrina cristiana. Tra le diverse apologie, oltre a quelle che hanno riguardato la difesa cristiana da tessi dell'ebraismo e così anche da tessi del mondo greco-romano, dobbiamo ricordare anche le apologie contro l'ognosticismo. Già in precedenza abbiamo spiegato che l'agnosi era un processo di conoscenza attraverso le forze umane, le sole forze umane. Davanti all'ognosticismo, alle diverse molteplici, direi, correnti del gnosticismo, interviene Santireneo. Gli anni di Santireneo sono 130 circa, 200 circa. Lui nasce a Smirne e poi in seguito diventa Vescovo in Gallia, in particolare a Lione. Tra le diverse opere di Santireneo ce n'è una che ha per titolo Adversus Ereses, Cioè ricerca e smascheramento della falsa gnosi. Che cosa fa Ireneo? Beh, lui prima di tutto analizza le dottrine degli gnostici e devo dire che lo fa anche con molta correttezza, perché lui riporta i testi gnostici senza ritoccarli, senza alterarli. E Ireneo, oltre ad analizzare le dottrine degli gnostici, controbatte, punto per punto. E tratta, infine, di un tema molto importante, cioè la resurrezione della carne. Spiega poi la dottrina trinitaria, cioè l'insegnamento della Chiesa sulla Santissima Trinità. E infine presenta la cristologia, con quindi un particolare riferimento al rapporto tra il padre e il figlio. Sempre con riferimento alle apologie contro l'agnosticismo, troviamo un altro personaggio già citato in precedenza, cioè Quinto Settimio Florente Tertulliano. Tertulliano era nato intorno al 160 circa, era un avvocato, era di origine africana. E contro l'agnosticismo scriverà diverse opere. Io ne ricordo tre in particolare. La prima ha per titolo Adversus Marcionem, cioè contro Marcione, contro gli scritti di Marcione e le sue posizioni dottrinari. Ricordo che gli anni di Marcione sono stati 85 circa, 160 circa. Che cosa fa Tertulliano? Prima di tutto egli confuta il dualismo, Dio dell'Antico Testamento, tutto giustizia e legge, è Dio del Nuovo Testamento, bontà e misericordia. Quindi, praticamente, Tertulliano insiste su un'idea centrale, esiste un unico Dio che si autorivela nel tempo e poi nella pienezza dei tempi ci sarà l'arrivo del Messia con l'incarnazione di Cristo. Un secondo punto su cui insiste Tertulliano è che il creatore del mondo è il Dio buono. Cioè, tutta la creazione del mondo, in tutti i suoi aspetti, è una realtà positiva. Io qui volevo ricordare anche un fatto, cioè che quando si recita il credo noi diciamo proprio credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Quindi vedete che prima si mette in evidenza il concetto di Padre e poi si parla di Creatore. Cioè, questo proprio per sottolineare che Dio è un Dio buono. Tertulliano affermerà anche che Cristo è il Messia atteso. Questa è un'affermazione che troviamo anche in altri scritti. E inoltre, egli critica il Vangelo di Marcione e le sue epistole paoline. in altri termini si era fatta una enorme confusione con riferimenti a varie scritture cattoliche e a questo punto Tertulliano cerca di riportare la riflessione sulle vere fonti, quelle autentiche, cioè quelle riconosciute dalla Chiesa. Una seconda opera di Tertulliano riguarda Adversus Valentinianos, cioè contro i Valentiniani. Valentino era un personaggio che operò in Egitto e aveva tra le sue tessi, diciamo così, aveva anche ideato questo schema in cui lui vedeva trenta eoni supremi che derivavano dal Padre e dal Logos. ma Tertulliano davanti a questa rappresentazione illustra il carattere esoterico dell'ognosticismo e cerca di far conoscere le assurde dottrine e dice che il metodo migliore per combatterle è proprio far conoscere alle persone i contenuti di questi insegnamenti. Dopo Adversus Marchionem e dopo Adversus Valentinianos occorre ricordare anche Scorpiace. Scorpiace è un'espressione che fa riferimento a un antidoto contro la puntura dello Scorpione. Venne scritto intorno al 213 d.C. e in questo testo tra l'altro Tertulliano difenderà il martirio. il martirio quindi per Tertulliano non è da leggere soltanto come un fatto tragico segnato dal sangue dalle sofferenze dalle persecuzioni dalla morte di cristiani ma il martirio è da leggere anche come testimonianza di fede. Il martire con la sua morte afferma la sua morte nel nome di Cristo per motivi quindi di fede afferma la dottrina cristiana e testimonia la sua fedeltà a Gesù Cristo. Ecco vedremo ancora comunque altre apologie contro diverse eresie ad esempio contro l'arianessimo ma tutto questo sarà argomento del prossimo incontro grazie per l'ascolto arrivederci oggi c'è radioromalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org per saperne di più per saperne di più Grazie.